In un colloquio di lavoro nulla è lasciata al caso. I selezionatori infatti, specie quelli più in gamba, hanno il compito di seguire uno script preciso per arrivare a capire se il candidato che stanno intervistando è valido oppure no. Io stesso quando mi occupavo di ricerca e selezione di personale andavo al colloquio con un foglio con suscritti tutti i punti salienti che dovevo andare a toccare per assicurarmi che il candidato fosse idoneo o meno. Esiste una regola generale del colloquio, ovvero che un recruiter ha il dovere di valutare un candidato seguendo tre principali aree. La motivazione, la validità in base all'opportunità di lavoro che sta seguendo e la presentabilità. Vi invito a dare un'occhiata al video che ho già fatto sul colloquio perché analizzo un pochino più nel dettaglio queste tre aree. Per la valutazione di questi tre punti ci sono spesso delle domande standard che noi recruiter facciamo e che sono ritenute dai candidati molto molto difficili, ma che in realtà hanno una risposta esatta. E infatti ora andiamo a vedere quali sono le domande più difficili al colloquio di lavoro e come rispondere correttamente. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a lasciare un mi piace se i video vi sono piaciuti. Domanda numero uno. Parlami di te. Questa domanda viene fatta sempre, è la domanda più classica, ma vi giuro che alcune persone diventano delle cazzo di scimmie. Rispondere a questa domanda è una stronzata. Basta elencare in ordine cronologico il nostro percorso lavorativo, partendo dal titolo di studio fino ad arrivare all'ultima esperienza lavorativa, cercando di sottolineare le fasi salienti più importanti della nostra carriera e i successi e le vittorie più grandi che abbiamo avuto. Punto. Nulla di più, nulla di meno. Così facendo andiamo a tagliare una fetta di domande rompicoglioni, come cosa ti differenzia dagli altri candidati o perché sei la persona giusta per noi, in quanto già in precedenza abbiamo risposto andando ad elencare i nostri successi più importanti. La cosa importante di quando parlate di voi stessi è restare calmi e soprattutto promuovervi, ma senza fare i fenomeni. La seconda domanda è perché ti stai guardando intorno? Valuto sempre proposte e sono disoccupato? Sono due risposte di merda. Il nostro obiettivo infatti è quello di trasformare queste domande un pochino fastidiose in opportunità per dimostrare che siamo realmente interessati a questa nuova opportunità lavorativa. Il mio consiglio è quello di rielencare le motivazioni che vi hanno spinto verso un nuovo iter selettivo e soprattutto di spiegare queste motivazioni in maniera chiara, ovvero motivi geografici, motivi professionali, spiegare nel dettaglio cosa state cercando e cercare di essere molto molto chiari e sinceri in questa fase e soprattutto non mettere mai in mezzo i motivi economici. Terza domanda, descriva un caso in cui ha preso in mano la situazione. Nel mondo della ricerca e selezione di personale esiste una metodologia che si chiama STAR che sta per Situation, Task, Action e Results. Questa metodologia è molto diffusa per arrivare a capire se il candidato è capace di articolare un discorso partendo da un evento, spiegando le azioni che ha fatto per risolvere tale evento e arrivare a un output di risultato. Quindi qui vi consiglio di prepararvi un discorso breve ma che sia chiaro ed efficace e che soprattutto vada ad elencare dei risultati tangibili che avete raggiunto con le vostre azioni. Quindi usate anche qualche dato numerico, insomma qualcosa ad alto impatto. E un altro consiglio che vi do è sia di inserire nel curriculum tale attività o tale traguardo raggiunto e sia soprattutto di scegliere un evento che non sia troppo distante nel tempo. Quanto più è fresco, tanto più il suo impatto sul recruiter sarà elevato. La quarta domanda famosissima nel mondo della consulenza è quanti campi da tennis ci sono in Italia oppure quanti frigoriferi ci sono in Italia? Chiaramente la risposta a queste domande è impossibile da conoscere, però vengono fatte per capire la capacità di ragionamento deduttivo del candidato. Quando vi vengono fatte queste domande è importantissimo partire sempre dal generale fino ad arrivare al particolare. Ovvero se vi viene chiesto, non so, ripartiamo agli esempi di prima quanti campi da tennis ci sono in Italia, potete partire dal numero delle regioni in Italia e arrivare a capire più o meno quanti centri sportivi potrebbero esserci. Invece per i frigoriferi, magari partendo dal numero della popolazione italiana, insomma far capire che il vostro sistema di ragionamento parte sempre dal generale fino ad arrivare al particolare e raggiungere la soluzione. Purtroppo posso dire solo questo perché non c'è una domanda specifica e standard, questa è la tipologia delle domande, se riuscite a partire dal generale riuscite sempre a raggiungere il risultato che volete. Quinta domanda, stai svolgendo altri iter selettivi? Dovete sapere che un recruiter entra a colloquio per due motivi, il primo è quello di valutare il candidato che sta colloquiando e il secondo è quello di raccogliere informazioni e quale domanda è migliore di chiedere se il candidato stia svolgendo altri iter selettivi? Questo perché ci fa capire innanzitutto la validità del candidato, ovvero che se sta svolgendo altri iter selettivi è comunque un candidato appetibile sul mercato del lavoro e seconda cosa ci dà informazioni sulle altre aziende che stanno assumendo e che stanno cercando di crescere. La risposta giusta a questa domanda è sempre sì, sì perché fa capire al selezionatore che siamo appetibili sul mercato del lavoro e sì perché ci stiamo guardando intorno attivamente quindi siamo motivati a un cambiamento. L'unico consiglio che vi do su questo punto è di non elencare le aziende con le quali siete in iter selettivo perché date troppo potere informativo al recruiter ma di spiegare in linea generale con che tipo di aziende siete in iter selettivo e per quali posizioni in modo da far capire al recruiter su che tipo di opportunità vi state orientando. La sesta domanda è qual è la sua desiderata economica? Presto o tardi questa domanda viene sempre fatta perché poi alla fine si riduce tutto al vile denaro. Dovete sapere che dati di mercato alla mano l'incrisi economico quando si cambia da un'azienda a un'altra è sempre di un 10 per cento della RAL quindi se voi state percependo in questo momento 25 mila euro di RAL verosimilmente potrete andare a chiedere una RAL che oscilla tra i 28 e i 30 mila euro alla nuova azienda. Mi raccomando anche qui se volete chiedere di più di questo 10 per cento state sicuri che lo meritiate per davvero. Settima e ultima domanda rompicoglioni ci sono delle domande. Questa domanda viene sempre fatta ricordo che al mio primo colloquio quando mi venne fatta risposi no e fu una figura di merda perché fare una domanda al selezionatore fa sempre capire che tu effettivamente sia realmente interessato all'iter selettivo quindi il mio consiglio è sempre quello di tenere una domanda di riserva sempre legata alla crescita professionale a queste tematiche qui o alla posizione in particolare per far capire che da parte vostra c'è un reale interesse per l'opportunità di lavoro. Ci sono delle domande?